Da alcuni anni la coltivazione della lavanda e delle altre piante officinali in Piemonte offre interessanti opportunità di crescita ai giovani che decidono di investire in agricoltura. Uno di loro è Matteo Bartino, 27 anni, che è tornato alla terra scegliendo di dedicarsi alla coltivazione della lavanda con metodo biologico. Siamo andati a scoprire la sua storia sulle colline di Sale San Giovanni in Alta Langa. Io ho iniziato come hobby nel 2018, mi piaceva, mi incuriosiva la coltivazione di lavanda soprattutto per la bellezza dei campi, il colpo d'occhio che rimane quando è matura e ho iniziato con questo campo qua. Dopo che ha iniziato a produrre abbiamo ingrandito, abbiamo piantato altri campi, siamo arrivati a un totale di 3 ettari e incrementiamo la produzione aziendale, oltre che quello coltiviamo ovviamente altre specie come grani, grani antichi, castagne, nocciole. Avevo alcuni campi del nonno che me li ha lasciati coltivare, per il resto sono partito esattamente da zero. Bisogna fare tanti sforzi. Però se è una cosa che piace viene ricompensato in diverse maniere. La mia è un'azienda totalmente biologica. La lavanda che coltiviamo qui a Sale è una lavanda a un gusto di foglia vera, scelta dalla cooperativa a cui ci appoggiamo per la distillazione, perché producono oli essenziali, soprattutto per le caratteristiche che si adattano bene a questo territorio, a questo clima e più che altro perché l'oglio essenziale che producono è uno dei più pregiati. Sempre di più si dice che l'Altalanga è una piccola Provenza. Diciamo che la vera Provenza è caratterizzata da campi immensi, però io non la paragonerei proprio alla Provenza sia per la qualità che viene prodotta di olio essenziale e sia proprio per il tipo di specie che vengono coltivate. Essendo bi direi che può essere un prodotto diciamo un goccino più di nicchia, un goccino più pregiato. Scopriamo allora come funziona la coltivazione della lavanda sulle colline di Sale, San Giovanni ed intorni. La coltivazione della lavanda è molto particolare come tutto il resto delle officinali. Prima che entrino in produzione generalmente passa un anno o due, dipende un po' dal clima, dal terreno che viene scelto. Sulle file si passa con un macchinario opposto a una multifresa, invece tra una pianta e l'altra sulla fila è tutto lavoro manuale. Essendo biologico non si possono dare dei serbanti, non si possono dare prodotti chimici. Quando la lavanda inizia a essere così, di queste dimensioni, si passa una volta in inverno, primavera, a fare una concimazione per aiutare la fioritura, la qualità e la quantità di fioritura e poi verso la prima, la seconda settimana di luglio si procede col taglio. Noi ci appoggiamo a una cooperativa, hanno un macchinario apposta che taglia una fila per volta di lavanda fresca. Questa viene caricata e viene subito portata a distillare. La coltivazione della lavanda ha ricadute importanti a livello turistico per il piccolo borgo di Sale San Giovanni, richiamando negli ultimi anni decine di migliaia di visitatori tra fine giugno e inizio luglio. Appena il campo è entrato in produzione abbiamo visto che il turismo è iniziato anche a passare, a vedere questo campo, quelli vicini che abbiamo e mi sono chiesto perché non cercare di fare qualcosa. Allora abbiamo provato, facciamo tuttora delle prove, per creare dei prodotti sempre della nostra azienda che possono essere sia con la lavanda che senza, sia alimentari che no, da vendere in questo periodo. Come diciamo turismo in questi ultimi anni è decisamente in crescita rispetto a direi prima del Covid.